Buon giorno, buongiorno, ma buongiarnissimo Ragazzi sono troppo emozionata Ho troppe cose da dirvi e sto tipo che, sono tutta elettrica perché penso, continuo a pensare Devo dire questo, questo, vabbè la voce sta tornando eh, perché era ancora più sparita Adesso sta tornando dopo l'inaugurazione che abbiamo fatto a Calita Shop Ho consumato tutta la mia voce, ma no ragazzi quante cose vi devo dire Quante cose non riesco a contenermi, porca miseria Non riesco a contenermi di troppe cose, comunque ragazzi mi sono fatto un trucco bellissimo Perché io sto provando tutti i trucchi che ho al negozio, ovviamente perché voglio dare consigli mirati su tutto E mi sono fatto un trucco troppo bello con tutti i prodotti che ho al negozio Questo rossetto è puro bio ed è troppo bello, ma ho ottimizzato tutte le marche Color caramelo, puro bio, nabla, tutto è bene Comunque Devo fare, ah poi volevo dire questa mano, vedi adesso mi vengono rimettendo tutte le cose bellissime Che devo dirvi? Voi se volete dei consigli, delle recensioni su prodotti Tanto che io in negozio, vale, mi mangio le parole Se volete delle recensioni su prodotti Fatemelo sapere nei commenti, perché io in negozio ho miliardi di marche Adesso vi faccio anche il tour del negozio, ve le faccio vedere tutte E se volete io nei video vi posso anche far vedere nei vlog, ma vi posso fare anche delle recensioni specifiche Sui prodotti e vi faccio vedere le svoce, le recensioni anche direttamente dal negozio Così vi possiede questa cosa, vi è utile Quando venite al negozio già sapete cosa comprare Anche poi ci sono tutti i test, quindi potete provare tutto E prossimamente ci sarà anche il sito Stiamo facendo il sito online De Caritas Shop, quindi non vedo l'ora di darvi questa notizia Anche se ragazzi io vi devo ringraziare troppo Veramente voglio prendermi proprio 30 secondi di tempo per ringraziarvi Poi vi ringrazierà anche Dario perché dopo vado al negozio E quindi lo vogliamo fare assieme Siete venute in tantissime In particolare sabato e domenica l'inaugurazione Ci avete riempito d'affetto Siete venuti dappertutto Le mie follower sono tutte bellissime, credetemi Gente bellissima Bellissima dentro e fuori Sono troppo felice E mi avete stravolto È bello sapere che tutto quello che ho fatto vi è piaciuto Non c'era una persona che non mi diceva che è bello Ce l'hai fatta che è bello Perché io ho messo quanti più prodotti Ci ho fatto proprio uno store, uno shop grandissimo E ho messo di tutto di più Tutti i prodotti biologici, naturali, cosmetici, trucchi Quindi voi siete Allora sono tutte persone anche da Roma, da Milano Veramente ragazzi mi avete riempito il cuore di gioia E poi anche quotidianamente state venendo in tantissimo Perché io ci sto sempre al negozio Mi sto organizzando quei video Però dato che comunque abito abbastanza vicino So sempre al negozio E ogni tanto spunto e compaio Comunque mi allontano proprio per quelle cose La pipì, il mangiare Perché poi sapete che devo riprendere anche con la palestra E una settimana che non vado in palestra sto morendo Una settimana che non vado in palestra e mangio male Devo riprendere a mangiare, a cucinare le mie cose Ad andare in palestra ragazzi Perché se no sto male, mi nervosisco e non va bene E divento una ciccio bomba Quindi ragazzi vi volevo ringraziare Poi il negozio è aperto tutti i giorni Dalle 8.30 Mi chiedevate questa cosa di orare dalle 8.30 Alle 13.30 E dalle 16.30 alle 20.30 Poi abbiamo pensato di fare sabato e domenica Di restare aperti orario continuato Anche questo sabato e domenica Perché intanto ce lo state chiedendo magari in settimana lavorate O magari chi viene nel weekend a Napoli Scende da altre parti d'Italia Vuole passare al negozio Ci soverà sempre aperti Sabato e domenica Orario continuato Dalle 8.30 alle 20.30 di sera Perché per noi è un piacere Quando venite vi posso seguire negli acquisti Vi posso dare dei consigli Anche solo persone molto solari E molto chiacchierone Sia io che Dario Poi c'è anche Nancy Ci sono i miei genitori C'è Pachito Siamo tutti E ci sarà anche Popi Vieni amore Vieni qua ce ne scappa Comunque ragazzi Lo voglio far vedere Guardate qua Che non sono ingrassata Perché comunque Vabbè che ve lo dico a fare lo stress Sempre a lavorare Sempre al negozio Però comunque Stanno già scendendo tutti i muscoletti Quindi voglio tornare in palestra Poi la palestra mi piace Perché mi scarico tutte le tensioni Quindi ci vuole Amorino di mamma tua Eccoti amorino Tutti ti volevano Mamma non ti ha portato Perché c'era troppa confusione Però adesso quotidianamente La porterò Al negozio con me Quindi la troverete Anche Pupi Vero Pupi Amore Saluto tutti i cagnolini Come te Bella di mamma tua Quindi se la volete vedere Venite al negozio Che la troverete Poi ragazzi Vi volevo dire anche un'altra cosa Una cosa importantissima E bellissima Segnatevi questa data Giovedì 15 giugno Ovvero giovedì prossimo Ci sarà un grande evento A Carlita Shop Che vi ricordo Ci troviamo a Quarto In provincia di Napoli A Via Santa Maria 95 Ci sarà un grande evento In cui faremo Tutta una giornata In collaborazione Con Velvet Bacchery A Pozzuli Faremo dei buffet Offriremo dei pasticcini Dei dolci Dei rustici Tutte cose buonissime Delle torte Buonissime E tutta la giornata Saremo aperti In occasione di questo evento Dalla mattina Alle 8 e 30 Alla sera Alle 20 e 30 Vi offriremo Dei pasticcini Parleremo dei prodotti Faremo delle dimostrazioni Ci saranno Delle estrazioni Dei regali Che faremo Quindi passate Sarà veramente Una bella giornata A parte perché Velvet Bacchery A Pozzuli È una Bacchery Bellissima La ragazza è una mia follower Troppo carina Che già mi ha fatto assaggiare Tante volte I dolci che fa E sono molto buoni Loro organizzano Queste feste Preparano queste cose È molto bello Mi raccomando venite Giovedì 15 a negozio A Caritas Shop Perché appunto Sarà una bellissima giornata Un bellissimo evento Adesso ve lo ricorderò Anche su Instagram E su Facebook Però ve lo sto dicendo Già nel vlog Tutta la giornata Saremo aperte Ci saranno regali Faremo delle dimostrazioni E vi offriremo Tutti questi bei dolci Questi pasticcini Questi rustici È ovviamente Gratuito Ovviamente Cosa ve lo dico a fare Ovviamente Siete tutti invitati E mi fa tanto tanto piacere Se passate A qualsiasi orario Ci trovate sempre là Quindi ecco Grazie a questo negozio Alla mia propria frumeria C'ho la possibilità Di incontrarvi Anche di creare Degli eventi Delle cose Delle dimostrazioni Dove realizzo le ricette Le cose Quindi È troppo bella questa cosa Io ancora non ci credo Anche voi Quando venite nel negozio Mi trovate là Oh mio Dio Com'è strano Vederti qui Perché Invece sono proprio io Comunque È bellissima questa cosa È un'emozione Veramente grandissima Quindi sono troppo troppo felice Infatti adesso Io non vedo l'ora Io sto qua Sto facendo il vlog Ho fatto tutte le mie cose A computer E tutto E Cioè Cioè Sì tipo in pausa Adesso mangio una cosa E non vedo l'ora Di andare al negozio Perché sono troppo felice Quando mi vedo Nel nostro mondo magico A provare tutti i prodotti A odorare A fare Provare tutti i test E dei trucchi Eccetera Quindi è troppo bello Ormai sono diventate amiche Quindi Non sono più youtuber Sono la vostra amica Amore Aspettate che Pupi Abbia Devo andare a vedere Che cosa succede Amore mio Vuole giocare con la sua mamma Fu nel balcone Amore Sì hai ragione Giochiamo Mamma corre con te Giochiamo Giochiamo Amore Diamo i scappi Bella Bene Va bene Dai ve lo dico Perché me l'ha chiesto In tantissime Che sono super abbronzata Non sono mai andata a mare Ecco il mio segreto Vi dico qual è Vi svelo lato abbronzante Amore di mamma Eh mamma L'ha messo qua a terra Vicino alle scarpe Dobbiamo farlo vedere un attimo Com'è bello Comunque ragazze Questo è lato abbronzante In tantissime Già l'avete comprato Perché siete venute A Calita Shop E ve l'ho consigliato Io prima persona L'avete comprato E' buonissimo Poi mi mandate tutti i messaggini Mi dite che vi trovate bene Io leggo tutto Leggo tutto E' ottimo Questo auto abbronzante Di Dr. Organic Vi farò un video Perché è troppo troppo bello Ragazze Dunque ragazze Ci sta Prima lo scrub Si fa Per appunto Ammorbidire la pelle Omogenizzarla Avere un'abbronzatura uniforme Poi si mette lato abbronzante Che non macchia E' veramente bellissimo E' fantastico ragazze Un'abbronzatura molto naturale Senza macchia Adoro E poi c'è anche la crema Per prolungare l'abbronzatura Che può essere utilizzata Anche d'estate Per ammorbidire la pelle Dopo il sole E far durare l'abbronzatura Mantenere la pelle luminosa E appunto abbronzata Adoro Poi guardate ragazze Qua che cosa c'è Tu sempre in prima linea Qualcosa mi è arrivato Veramente già da un po' di giorni Dr. Organic Mi ha mandato Questo Ciao Carlita Direttamente dall'Inghilterra Per te In exclusiva La nuova SkinClaire Praticamente Per la pelle grassa E' pura E ragazze E' figata Cosa ve lo dico a fare Con T3 Pompilmo Chinacia Mertillo E carbone Contro le imperfezioni Riduce i pori E i brufoli E' fantastico ragazze Io lo so Ma amore Ma ti togli davanti A mamma Io lo sto provando Già da un po' di tempo Questi prodotti Adoro troppo Poi queste scatole Sono troppo belle Ce le abbiamo anche in negozio E per fare le confezioni Regalo Sono troppo belle E ragazze Adoro questi prodotti Infatti li ho inseriti nel negozio Quindi se venite in negozio Da me Sicuramente Ve li consiglierò Perché sono fantastici Per chi ha la pelle grasse Per i dilatati In modo ragazze C'è questa maschera Tutti i prodotti Sono tutti per la pulizia Appunto Attietri Il gel C'è tutto Lo scrub Poi vi spiego Tutto quando venite da me E E questa qua In particolare Questo è lo scrub Che è fantastico E poi c'è la crema viso E poi c'è questa qua Che è la maschera Al carbone vegetale Ragazzi Adoro C'è praticamente la maschera Nella al carbone Però non c'è solo il carbone Ci sono anche tante sostanze E poi completamente naturale E biologico Sapete Dottor Organic Io l'adoro Infatti nel negozio Ho fatto di tutto Per averlo Perché ci vediamo tantissimo E ragazzi Questa maschera La duro Troppo C'è il T3 C'è il carbone C'è tante cose Funziona davvero tanto Poi Ne parleremo in negozio E comunque Venite Perché Ve la faccio vedere Ve la faccio Sicuramente se la comprate Vi troverete bene Io nel negozio Sono solo prodotti Che funzionano Che ho provato In prima persona E che funzionano Comunque tutta la linea È fantastica Ragazzi Sto provando la tisana Fitti Che è il mio segreto Soprattutto in questi giorni Che sto mangiando male Almeno mi tengo forma E mi purifico Con la tisana Che mi aiuta A mantenere la pancia piatta Pancia piatta E contro la cellulite Quindi Dio di la verità Funziona sempre Alla grande Fitti Mi raccomando Utilizzate sempre Il mio codice sconto Calita10 Perché è sempre valido Sul sito E risparmiate il 10% Di sconto Soprattutto adesso Incontro all'estate Io faccio sempre scorta Di queste tisane Per l'estate Perché comunque Mi fanno sgonfiare Eccetera Quindi Con lo sconto Risparmiate il 10% Ed è sempre buono Questo è il mio metodo Come bere la tisana D'estate Perché queste vanno bevute Sofa tutto d'estate A volte l'abbiamo anche calda Devo dirvi la verità A volte la voglio fresca E faccio così Ci metto il ghiaccio Stesso qua dentro Questa è una mia idea E una Madò Sono troppo intelligente Poi ci metto questo E l'ho riempito appunto Con la tisana Ecco qua L'acqua che ho scaldato E la verso sopra E quella istantaneamente Si fa fresca Vedete Sono troppo intelligente Troppo intelligente Troppo Grazie Callita10 Il mio codice sconto Compratele anche voi Sul sito www.fitia.it E avete la piancia piatta La piancia però Ok Uuuu Adoro Fitti Ragazzi Guardate cosa ho preparato Di buonissimo Si ricomincia Ragazzi A mangiare Light Mi sono preparata Una big insalatona Vi giuro C'è tutto dentro C'è il mondo Sotto c'è un letto Di rucola Oh mio dio Come parlo bene Poi ci sono Dei pomodori Poi c'è il tonno Quindi proteica Olive Capperi E poi Ho messo anche Il salmone affumicato Per avere più proteine E poi mi piace tantissimo Il salmone affumicato Quindi ho messo Sia tonno Che salmone affumicato E poi ho messo Abbondante limone E un filo D'oro extravergine D'oliva Ovviamente Il tabasco Non può mancare Perché c'è tutto piccante Amore Che c'è Mammina Aspetta qua Però le gallette vicino Accompagnerò Con le gallette Quindi Super light Ragazze Vabbè Cosa dovevo fare Ci rimettiamo di nuovo A mangiare sano Ci vuole ragazze Perché veramente ho mangiato Schifezze Con la pala In questi giorni Ok Mi è arrivato un whatsapp Fammi controllare Chi è Piccolina Vuoi venire anche tu A carrile shop Vuoi venire anche tu A lavoro con mamma Lei ama tanto Stare con le persone Però non sempre la porta Perché poi Se c'è troppa confusione A lei Diciamo ha paura E si spaventa E l'amore Cicchia Amore di mamma Sei mio amore tu Sei mio amore 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 Sto rivosando 5 minuti C'ho la polletta Nei capelli Prima di andare in negozio A carità sopra Anche se vado davvero con piacere Perché Credetemi ragazzi Secondo me Quando fai una cosa Che ti piace Non l'accusi la stanchezza Io ho notato questo Perché ad esempio Quando vado in palestra Le volte faccio Degli esercizi pesantissimi Non l'accuso la stanchezza Dopo mi sento più Energica Di prima Amore Perché è vero Quando fai una cosa Che ti piace Non la senti la stanchezza Quindi io Veramente Quando sto al negozio Non mi piace troppo Perché comunque È una cosa che mi piace Il mio sogno Quindi sono felicissima Amore Comunque ragazzi Sabato e domenica Quindi questo sabato E questa domenica Facciamo orario continuato In negozio Proprio per dare la possibilità Che non è riuscito a venire Sabato e domenica scorsa All'inaugurazione Facciamo tipo Una seconda inaugurazione Perché comunque Anche settimana Magari qualcuno Ha lavorato Eccetera Anche se siete venuti In tantissimi Anche settimana Quindi sabato e domenica Facciamo di nuovo Orario continuato Dalle otto e mezza Di mattina Alle otto e mezza Di sera Quindi potete venire Quando volete Tutta la giornata Sia sabato che domenica E sorteggeremo Altri regali Perché abbiamo ancora Tanti regalini Da fare Quindi sorteggeremo I regali Saranno comunque Anche delle belle giornate Da passare assieme Quindi mi raccomando Venite E cos'altro dire Vi aspettiamo Sabato e domenica Ma anche tutti i giorni Quando volete venire Venite Perché vi fa tanto piacere Adesso quindi Devo andare a negozio Da voi Tanti regali Sabato e domenica Dalle otto e trenta Alle venti e trenta Orario continuato Comunque ragazzi Sono ritornate Le tinte labbra Yeee Di tutti i colori Bellissimi Non vedevamo l'ora Perché erano praticamente Esaurite E adesso ci sono tutti Che bello Dopo l'evento Delle inaugurazioni Erano finite Come il pane Le abbiamo ricomprate Quindi Per l'occasione Abbiamo pensato Di fare Un'altra Tipo una seconda Inaugurazione Sabato e domenica Saremo aperti Orario continuato Troverete Rifornimenti di labbra Rifornimenti anche Di alchemilla Che erano finiti I solari Un po' rifornito Tutto quello Che era finito E la presentazione Di due nuove linee Dei nuovi solari Regali Ci saranno Nuovi regali Anche Anthos Ci manderà Altri di quelle scatole Da regalare Che erano piaciute Tanto E con pioncini Faremo delle stazioni Insomma C'erano tante cose belle Vero amore? Sì E vieni qua Ha fatto il caffè Buonissimo Mamma mia Ragazzi Ma abbiamo anche un bar Abbiamo anche un bar Bar Dario Carlita Perché lui Stava fatto Il caffè Con la macchinetta E venuto Buono Ma che c'era Dinto il latte Era tipo cremice Ma sono io Che sono un barrista Perciò Qualcuno Se fa un barrista Pretendimi a lavorare E' un po' qua Chi ci sta Che stare tu con me Comunque ragazzi Anche tutti i rossetti L'anno finito Comunque passate Il negozio Caritas Shop Via Santa Maria A quarto Perché le tinte Secondo me Durranno pochissimo Finiranno di nuovo Perché vanno a ruba Come il pane Quindi venite Comunque ragazzi Voi controllate sempre Sulla pagina Instagram E Facebook Caritas Shop Dove vi mettiamo Le ultime novità E vi diciamo Di tutti gli eventi Perché in settimana Sto facendo una ricetta live Qua al negozio Poi il sabato e la domenica Facciamo sempre i regali E cos E' orario continuo E' orario continuo Tu vuoi dire qualcosa? Si Sei tanto contento Non è di festa No Non è perché festa Non è di non è festa Non abbiamo un giorno di festa No Le nostre feste saranno ad agosto Agosto, Pasqua, Natale Perché Ma perché Scusa ma tu ti stanchi Ma io non mi sto comandando qua Perché mi piace Ma che pure io Sto per me Alle 5.15 Stamattina mi sono svegliata Alle 7.30 Però adesso la casa Mi ha detto No Non è vero Poi Mi sono messa a compiuta Faccio della bugia Guarda Faccio della bugia Adesso sto a lavoro Qua a Caritas Shop Sì Sì Ma bene E poi Stasera devo fare la nottata Per montare il video Per domani Ah Meno male Però io dormo Ma mi fai compagnia Sì Sì Fai i yogurt Che è così La yogurt Che è con la scioccolata Sì Bene C'è un po' di gente A Caritas Shop Che provano Tutti i trucchi Ciao ragazze Ciao Lei è bellissima Anche lei Belle Fate le vostre prove Fate con calma Anche la mia sorellina A Caritas Shop Stiamo chiudendo Sono le 9.30 Ci tratteniamo sempre un po' di più Vengo dal mare ragazzi Non è vero Bugiarda Guardate come sta abbronzata Perché anche a lei Ho consigliato Il mio auto abbronzante Magico È bellissima Sì è veramente Una brasiliana Comunque anche Tutte le ragazze Che lo stanno comprando Si stanno trovando benissimo È buonissimo È buono È una mascia alle macchie No È ottimo Venite a Caritas Shop E coprete una tua abbronzante Stop Vai Sdabbici Bella Ma poi sei bella proprio Sei bella bella Amore sono troppo belle Queste torte Mamma mia Red Velvet No Guardi quello Questa è l'America Amore come sono queste torte Aspetta che c'è Aspetta che c'è Si sono spaventati Perché ho fatto Lo zoom Sono buonissime Queste torte Guarda qua Oh mio Dio Questa è la Red Velvet Com'è Assaggia Io la so come Eh assaggiala tu Com'è Ah non è buona L'ha mangiata Comunque Ah guarda questa Questa Triplo cioccolato Mamma Ma questa Guarda c'è anche il biscotto Questa è coloreo Assaggiamo anche questa Comunque vogliamo dire Chi ce l'ha portata Queste torte Bacchery Velvet Che sta a Pozzuoli E sono buonissime Cioè solo a guardarle In grassi 10 kg Però sono fantastiche Grazie mille Lei è la mia follower Che ha questa Bacchery A Pozzuoli Ha avuto questo pensiero Carinissimo per me Ti ringrazio tanto Adesso ingrasserò Grazie Ok Mangiamo Ehi Pupi Deve vai Che c'è Voglio giocare Ehi giochiamo Eccola Vai Stiamo riposando Fai di giochino Lei piace tanto Eccola Peppa Pig Vuole giocare Vuole giocare così Sì vuole giocare Delle pennette Con le zucchine Bio Bio Dario nel frattempo Che faccio il video Ho finito anche di mangiare Con semplicemente Zucchine Basilico Una spavveata Di parmigiano Pepe E un po' di olio a crudo Ed è buonissimo Perdonate i piatti di carta Lo so è proprio brutto Non è vero Non è vero Perché non c'è i soldi Per comprare Quelli là No Ma semplicemente Perché dopo una giornata Intera Al negozio Palestra Al lavoro Dopo devo anche montare Questo vlog Quindi andrò a letto Tardissimo A meno risparmio Sulla cucina Buon appetito Amore Buon appetito Yummy Burger di pollo E tacchino Con finocchietta Vero amore Sono troppo buoni Buonissimi Deve devi assaggiare Deve devi assaggiare un po' Sì, devi assaggiare Assaggiate Assaggiamo Stiamo aprendo L'anguria È vero Vediamo com'è Sei bella Russa Russa Speriamo Vai amore Apri Questo coltello gigante Tu che dici È rossa rossa Io penso Anche Pupi Guarda Pupi Aspetta Com'è Pupi È rossa E veniamo Mi dispiace Mi state vicino Il bellone non è buono Abbonare me lo voglio C'è anche luce Chiamamamata Chiamamamata Stanno vicino Le persone Chiamamata Mamma Mamma Tappi Vigino E me lo Non è buono Grazie Le famiglie Tu amma Tu amma Mi sta vicino Questa cosa Non ci ha Giù Di mangi Vigino Ti prego Tu amma Grazie per la visione!